Nell'ome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Vergine Immacolata, che ci hai promesso grandi grazie ai devoti della tua medaglia, che ti avessero invocato con la giacolatoria da te insegnata. Noi, pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo, per la tua Immacolata Concezione, le grazie di cui abbiamo bisogno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo, e per quanti a te non ricorrono, e in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. O Vergine Santissima della Medaglia Miracolosa, in questo ultimo giorno voglio affidare a te tutta la mia vita e tutte le mie speranze. Voglio indossare la tua meravigliosa medaglia, e non toglierla mai più. So che donerai anche a me, grazie immense, senza numero. Grazie, Maria, per tutto quello che hai fatto per me, e per quello che farai ancora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo, e per quanti a te ne ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa, e per quelli che ti sono raccomandati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Grazie a tutti.